Buon lunedì di Pasqualetta a Biondi e Bionde. Stasera, lunedì 5 aprile 2021, cosa c'è in tv? Si parte? Si parte. Sul Rai 1 abbiamo La Fuggitiva con Vittoria Puccini, una fiction, anzi i primi due episodi ci sono, che racconta la vita di Arianna, questa viene sconvolta quando suo marito viene assassinato e sembra sia colpa sua. Quindi lei che fa dal titolo La Fuggitiva si leva di culo in pratica. E nulla, non so di cosa parli, questo è in pratica la trama iniziale. Rai 2 abbiamo Benar, ma non quello di una sessantina d'anni fa, bensì quello del 2016 con Jack Huston. Io non so chi sia Jack Huston, però su Rai 2 stasera c'è Benar, film storico, insomma, dell'antica Roma. Su Rai 3 abbiamo con Corrado Augas Città Segrete. Stavolta rivediamo la puntata dedicata a Venezia, quindi andrà a Venezia anche grazie a, mi pare, immagini 3D, insomma, si sposterà fino a un certo punto a Augas, anche perché ha 86 anni, quindi insomma, avrebbe stato anche a casa lui dal punto di vista della sicurezza, però è un uomo di cultura, come pochi ce ne sono sicuramente in Italia, che sicuramente non vediamo sulle reti Mediaset, come Nicola Porro, che parlerà sicuramente sulla pandemia e sui vaccini. Quarta Repubblica di Nicola Porro. Non aggiungo altro. Come non aggiungo altro ancora con l'Isola dei Famosi. Nuova puntata, Canale 5, 21 e 20, che dirvi, e niente di che. Su Italia 1, invece, abbiamo la terza puntata, non vorrei dire una cavolata, non li ho visti, dei Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar, sempre con Johnny Depp, con Javier Bardem, Italia 1, insomma. Diversamente, stavolta ho trovato il miglior programma, o meglio, il miglior film che vi posso consigliare, su Sky Cinema 2, Scena tra amici, una commedia francese belga del 2012. A Scena della sorella, il quarantenne Vincent, scherza sul nome che vuole dare al figlio, che sta per nascere, e così, senza volerlo, dà via una serie di equivoce e rivelazioni aspettate. Parto da un presupposto che a me non piacciono tantissimo le commedie francesi, però non ho visto alcune, tra cui C'est la V, l'ho visto, mi pare, nel Capodanno quest'anno, che narrava la storia di un servizio di catering durante un matrimonio. Molto, molto bellino. Molto, molto divertente. Vi consiglio questo perché le alternative sono fiacche, molto fiacche. Su Paramount Network c'è ancora, che è il 27, Paramount Network, Network, Dirty Dancing, quello con Patek Suace e Jennifer Grey. Storico, fino del Badano, insomma. Nessuno può mettere il baby in un angolo. It's the time of my life, ciao. Diversamente c'è poca roba. Da cosa lo dico? Cine 34, non si ruba a casa dei ladri, ho vincito Saleme. Mi fermo qui. Diversamente c'è sul 9, fuori in 60 secondi, con Nicolas Cage e Angelina Jolie. Il problema qual è? È che le alternative sono poche. O meglio, il film che ho visto io è l'unico film che ho visto di quelli che ci sono stasera in televisione, è su Sky Cinema Suspense ed è Identità Sospette, del 2006 con Greg Kinner. Cinque uomini vittime di un sequestro si svegliano all'interno di un vecchio magazzino in disuso. Nessuno di loro ricorda la propria identità e perché sono finiti lì. L'ho visto un po' confusionario e alla fine non è tanto soddisfacente, quindi non ve lo consiglio. Se no abbiamo su Sky Cinema 1 Prima TV, tornare a vincere con Ben Affleck. Quindi magari essendo un film nuovo potrebbe essere interessanti. Impegni sportivi non ce ne sono, anche perché si è giocato sabato. Che posso aggiungere? Niente, buona paschetta a tutti.